a tutti voi buona giornata e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale stamattina l'ora X alle 8 in punto ha riaperto il punto nascita di Latisana alla stessa ora invece ha chiuso quello di Palmanova e nelle due località di fronte ai due ospedali questa mattina si respirava un'atmosfera decisamente diversa un'atmosfera che vi abbiamo raccontato in diretta nel corso della nostra trasmissione ore 7 collegandoci appunto con Latisana e con Palmanova partiamo proprio da Latisana dove peraltro c'è stato anche un taglio del nastro una sorta di inaugurazione alla presenza del vicepresidente della regione assessore alla salute Riccardo Riccardi proprio per la riapertura del punto nascita di Latisana partiamo da qui dopo essere stato chiuso tre anni fa ha riaperto ufficialmente a Latisana il punto nascita con un simbolico taglio del nastro sindaco e latisanesi ritengono quella di oggi una giornata storica oltre il punto nascita che è importantissimo perché ci permette di riportare i nuovi nati qui a Latisana ci sarà un reparto di pediatria al completo questo è un territorio che in questo momento siamo a fine luglio abitato da oltre 200.000 persone fra Lignano e Vivione e queste 200.000 persone sono composte prevalentemente da famiglie quindi con bambini. Va spiegato ai cittadini sia i latisanesi che ai palmarini che cosa accadrà nelle due strutture come si differenzieranno e come si saranno complementari. Succede che c'è un ridisegno dell'assetto delle nostre strutture sanitarie con delle funzioni che non possono essere sovrapposte. Io non credo che oggi ci sia la vittoria di Latisana e la sconfitta di Palmanova. Io penso che ci sia la vittoria di Latisana e di Palmanova perché noi dobbiamo garantire una organizzazione che risponda alle esigenze delle persone. Negli ultimi anni i due strutture, i due stabilimenti ospedalieri di Palmanova e Latisana hanno visto una fuga dei cittadini residenti in questa area che si sono andati a cercare cure in altre strutture della regione o anche fuori dalla regione. Questo è successo per una persona su tre. Quindi questo è il fenomeno che noi dobbiamo contrastare. Poi è evidente che le vocazioni sono diverse perché quest'area è un'area che altrimenti sarebbe rimasta senza un'organizzazione adeguata sull'emergenza. Palmanova avrà un'organizzazione molto più qualificata sotto il profilo dell'organizzazione delle attività programmate. Come si diceva atmosfera completamente diversa a Palmanova dove non si potrà più nascere salvo situazioni di emergenza. Silenziosa la manifestazione che si è tenuta questa mattina davanti all'ospedale di Ialmicco e ha visto la partecipazione di un centinaio di cittadini e anche una decina di sindaci. Il picchetto assistito al trasloco in atto è iniziato già una settimana fa. A fare delle veci del sindaco Francesco Martinez che per motivi familiari non ha potuto essere presente c'era l'assessore Luca Piani. Significativa l'ultima frase che ha pronunciato ci rivediamo tutti qua per la riapertura. Ha detto insomma la battaglia è tutt'altro che finita pare. Oggi si chiude un piccola parte di questa protesta se ne apre un'altra e vi chiedo di rimanere con noi fino alla fine che significa riportare il punto nascita a Palmanova, ridare ancora di più servizi a questo ospedale che è un vanto per tutta la bassa friulana ma vi dirò è un vanto per tutta la nazione. È la prima volta in Italia che si chiude un punto nascita con 800 parti per aprirne un altro che probabilmente non ne farà 500 e quindi verrà ahimè per decisioni e per rispetto della legge potrà subire la chiusura fra qualche anno dando un imprevorimento a tutti quanti i cittadini. E questo qua è l'ultimo nonno prima della riapertura che ha visto la sua nipotina Chiara? Chiara, Chiara. Chiara nasce da Palmanova questa notte. Grande Chiara. Ha fatto il parto cesareo stasera quindi ieri sera verso l'uno ci ha avuto le contrazioni e di corsa è venuta portata qua. Quindi mettiamo l'ipotesi che fosse andata alla tisana era andata in meno un po' più preoccupante la questione con la strada e quant'altro insomma ecco invece tanto bene è venuta qua assistita da dio con l'infermiera dell'ostetrica che l'ha assistita è andata tranquillamente senza nessun problema. Chiara due chile e mezzo. Luta per la cronica. E' chiaro che Palmanova per noi era un punto di riferimento importante anche i numeri lo dicevano i flussi dall'isontino erano flussi importanti per cui credo che questa chiusura toccherà sul vivo anche i nostri cittadini purtroppo. Siamo qua per ribadire l'ingiustizia di ciò che sta accadendo e mi permetto di dire anche la irrazionalità nel senso che non sono state espresse alcune motivazioni proprio neanche una che giustifichino un passaggio di questo genere. Proseguiamo con la cronaca. Trovato un nuovo residuato bellico sulla spiaggia di fronte al camping Pino Mare a Lignano Riviera è successo attorno alle 21 di ieri la bomba un proietto di artiglieria dovrà essere fatta brillare dagli artificieri. L'area è stata sorvegliata dai carabinieri dalla polizia locale dalla polizia di stato. Una donna di 52 anni di porcia è andata improvvisamente in arresto cardiaco pochi minuti dopo aver concluso una breve marcia a Montereale Valcellina. Il fatto è accaduto ieri. L'atleta è stata salvata grazie al tempestivo intervento di un medico che era presente alla manifestazione e di un vigile del fuoco del distaccamento di Maniago fuori servizio il quale con un defibrillatore è riuscito a far ripartire l'attività cardiaca della paziente che è stata successivamente trasportata in ospedale a Pordenone. Non sarebbe in pericolo di vita. E l'incendio di un camion frigo nel centralissimo viale Primo Maggio nei pressi di un noto supermercato della grande distribuzione ha creato notevole allarme attorno alle 6.30 di oggi ad Azzano Decimo. L'intera zona è stata avvolta da una spessa coltre di fumo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Pordenone del distaccamento di San Vito. La situazione ha determinato problemi alla viabilità a causa del denso fumo. Sul posto i carabinieri di Pordenone che stanno svolgendo indagini per determinare quali siano le cause del rogo. Per il momento si esclude il dolo e si privilegia la natura accidentale. E tre automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, due dei quali dopo aver provocato altrettanti incidenti con feriti. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della compagnia di Sacile. La polizia locale di Lignano Sabbiadoro ha in dotazione dei nuovi mezzi per il controllo dell'arenile. Al corpo di polizia municipale di Lignano sono stati infatti fornite due seuei. Si tratta di veicoli di costruzione americana. Dovremo vedere anche delle immagini. Sono dotate di una tecnologia molto avanzata basata sulla gestione computerizzata dei giroscopi che consentono al mezzo di muoversi bilanciato su due ruote anche in percorsi fuoristrada come appunto in spiaggia e nella pineta. Inoltre una nuova auto ibrida in dotazione della polizia locale e questa si aggiunge all'equipaggiamento dei vigili della località balneare. Una nuova vettura più ecologica a disposizione degli agenti che è stata acquistata per potenziare i mezzi in dotazione con un occhio però all'ambiente. E ancora un'auto civetta con la funzione di sorvegliare le piazzole dei cassonetti dell'immondizia. L'obiettivo è quello di incastrare gli autori di gesti di inciviltà che purtroppo si verificano sempre più spesso. È arrivato a metà il viaggio di Enrico Lucca il Monfalconese che sta attraversando l'Italia per raccogliere fondi destinati alla via di Natale di Aviano. Obiettivo almeno 10.000 euro da raccogliere appunto pedalando il servizio. Enrico Lucca il Monfalconese partito dalla città dei cantieri per raccogliere fondi destinati alla via di Natale di Aviano ha raggiunto il punto più a sud del suo percorso vicino a Battipaglia. Ora si prepara a rientro dalla costa adriatica fino alla sua destinazione ovvero la onlus di Aviano. Siamo nel punto più a sud, siamo tra Salerno e Battipaglia, adesso attraverseremo l'Italia direzione Gargano, siamo partiti da Monfalcone, siamo arrivati subito nelle montagne da Tarcento, Tolmezzo, tutta quella zona nostra friulana. Poi siamo saliti fino in Cadore, siamo scesi per il lago di Garda quindi Bolzano, Trento, un giro bellissimo e abbiamo fatto la costa da Pisa in giù fino ad Anzio e siamo tornati in costa. Abbiamo fatto Napoli, tutta la costiera Amalfitana, fantastica, per arrivare fino qui. Ora attraversiamo, andiamo fino sul Gargano, facciamo un pezzo di costa in salita, probabilmente fino a Lanciano probabilmente e poi risaliamo stando all'interno. L'arrivo sarà ad Aviano, alla sede della onlus e non riesco ancora a fare delle previsioni per i giorni ma vi aggiorno un paio di giorni prima. Ancora una notizia di cronaca, ieri sera la Polizia di Stato ha restituito la legittima proprietaria, un'autovettura che le era stata rubata venerdì sera a Muggia. La notizia del furto con tanto di foto del veicolo era apparsa in un post sul social Facebook e ieri sera una donna ha visto parcheggiata in via Grego, un mezzo simile con le portiere aperte e con dei bambini che vi giocavano attorno e poi vi entravano ed uscivano. La donna ha informato la sala operativa della questura tramite il 112. Sul posto si è recata una volante dalle accertamenti effettuati, l'autovettura risultata essere provento del furto denunciato e reso noto anche su Facebook. Dopo le formalità di rito è stata restituita la proprietaria, il veicolo presentava il parabrezza parzialmente danneggiato e il notolino d'accensione di velto. Ci siamo questa sera alle 21 e 30 conosceremo il nome del vincitore della prima edizione di Friul Talent, il migliore sei tu, la nuova trasmissione di Telefriuli. Sono quattro i concorrenti che questa sera si sfideranno per ottenere il titolo. Vediamo. Si conoscerà lunedì sera il vincitore della prima edizione di Friul Talent, il migliore sei tu, la nuova trasmissione di Telefriuli, nata per scovare e valorizzare cittadini della regione, grandi e piccoli, dalle particolari doti artistiche. Il 29 luglio a partire dalle 21 e 30 si sfideranno negli studi di Tavagnacco i quattro semifinalisti. Dopo aver convinto i giudici nella fase del casting e sbaragliato la concorrenza, ora si preparano al confronto conclusivo. Si tratta di Dominik Fjalkowski, freestyler 22enne, originario della Polonia e residente ad Osoppo, che si esibisce nell'arte del palleggio acrobatico. Miriam Pieretti, cantante undicenne di Pordenone, che ha incantato la giuria, con la sua voce. Giacomo Koyanitz, 25enne di San Giorgio di Nogaro, mago delle Bolas e del Calisthenics, un particolare e spettacolare metodo di allenamento fisico. Chiara Di Santo, cantante 17enne di Fontana Fredda, che qualcuno ha già soprannominato la mina del Friuli. Sono stati poco meno di 40 concorrenti selezionati per partecipare alla prima edizione di Friul Talent, il migliore sei tu, provenienti da tutta la regione. Nelle prime tre delle cinque puntate complessive, ognuno di loro ha avuto a disposizione 100 secondi per dimostrare la propria abilità. A valutare ciascuna performance e a selezionare semifinalisti e finalisti, sono stati quattro giudici in ogni puntata. Ad alternarsi nelle valutazioni sono stati Elbecker e Fabrizio Nonis, l'organizzatore dell'Homepage Festival e titolare dell'agenzia Advantagitalia, Manu Ceschia, le ballerine, coreografi e insegnanti di danza Matilde Cerone e Giorgia Cuttini, il produttore discografico e critico musicale Alberto Zeppieri, il direttore artistico di Anatema Teatro Luca Ferri, l'attore Claudio Moretti, il cantante e direttore di importanti corali Alessandro Pozzetto, Marco Floreani della T85 e Cristian De Marco, titolare della CDM Agency. Vero matatore della trasmissione è Federico Bigotto, al suo esordio come conduttore televisivo. Anche per lui prova decisamente superata. Per conoscere il vincitore di Friul Talent, il migliore sei tu, l'appuntamento è lunedì 29 luglio alle 21.30 su Telefriuli. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, tra poco di nuovo in diretta con a voi la linea ed un focus dedicato ai punti nascita di Latisana e Palmanova. A tra poco. A tra poco. A tra poco. Grazie a tutti.